Buongiorno a tutti, scusateci per il ritardo ma l'allenamento è terminato un po' più tardi. Prima di iniziare leggo un breve comunicato. Domani al termine della partita Roma-Carpi sul terreno dell'Olimpico si terrà un'esibizione amichevole tra due squadre di ex giocatori e VIP senior capitanate da Ulivieri e Giacomo Losin nel quadro delle cebrazioni per la festa del donno che è prevista per il prossimo 2 ottobre. Volevo solo renderlo noto la stampa. Confidiamo nel supporto di tutti i tifosi. Sì, giusta iniziativa. I nonni, chi ha la fortuna di averlo o averli, le dobbiamo coccolare, no? È una bella iniziativa. Possiamo iniziare con la conferenza stampa. Inizia Paesano di Roma Radio. Salve mister, sono qui. Dopo la partita con il Frosinone, lei disse che era una partita dove la Roma aveva tutto da perdere. in una partita come quella lì con il Frosinone. La pensa così anche per la partita di domani, per Roma-Carpi? Ma c'è solo la vittoria che ci interessa. Perché, come ho detto dopo la Sampdoria, una settimana fa eravamo bene sul piano dei punti e adesso con un punto su sei stiamo meno bene, ovviamente. Ripeto che ci sarà il modo di giocare che ci porterà alla vittoria. Prendo l'esempio della Sampdoria e quella del Frosinone. Abbiamo giocato molto, 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 molto meglio alla Sampdoria e abbiamo perso. Invece a Frosinone abbiamo giocato male e abbiamo vinto. Ma il calcio è così, ma penso sempre lo stesso. Se giochiamo bene abbiamo ovviamente sul lungo termine molto più chance di prendere tre punti ogni volta. Vespasiani, Roma-TV. Buongiorno, mister. Buongiorno. Volevo chiederle, andando a guardare la media punti, Garzia ha una media punti straordinaria, non solo in casa ma anche in trasferta. Una media punti che hanno e hanno avuto gli allenatori più prestigiosi che questa squadra abbia avuto. Eppure, soprattutto in questo momento, finisce molto nell'occhio del ciclone. Viene criticato per qualsiasi scelta, per molte scelte. Volevo sapere come gestisce questo momento, anche a livello personale. Ma quello che è stato fatto è passato, anche se era un buon lavoro. Adesso dobbiamo fare almeno ancora un buon lavoro che ci porta ad avere dei risultati. È ovvio che è ancora l'inizio della stagione, ma è anche ovvio che, come l'ho detto, i due ultimi risultati non sono buoni. Dobbiamo guardare avanti e io, ovviamente, come i giocatori, essere concentrati sulla cosa che conta, il campo e la partita di domani. È l'unica cosa che mi preoccupa, le altre cose per me non sono importanti. Angelo Mangiante, Sky. Buongiorno, due questioni. La prima riguarda Venker, nel acquisto. Volevo chiedere, ancora non ha giocato un minuto, se è pronto, secondo lei, per debuttare o ha bisogno ancora di tempo. L'altra questione riguarda Castan. Lei, proprio qui in conferenza stampa, l'ultima volta aveva detto che non è ancora al 100%, bisogna ancora di lavorare. Come tempistica, volevamo sapere di quanto tempo ancora avrà bisogno? Non lo so, ma sta migliorando. È la cosa che serve a Leo, ovviamente. Ripeto, l'unica cosa che ho detto l'altra volta, mi sembra normalissimo, per un giocatore che è stato fermo un anno, di avere un po' più di tempo per tornare al 100%. Ma non c'è niente nascosto, Leo sta bene, ha una voglia pazzesca, quando sarà al 100% potrà lottare ovviamente sulla concorrenza, perché è un giocatore forte. Per il momento non è ancora al 100%, lo aiutiamo, ci aiuta da solo e ci servirà. Ovviamente che Leo Castan al 100% aiuterà tanto questa squadra. Su William l'ho visto meglio questi ultimi giorni, penso che sta migliorando molto sul piano fisico. Lui ha fatto una preparazione non ottima, visto che è arrivato tardissimo, che si era fermato a allenarsi quasi da solo a Mosca. Aveva bisogno prima di ritrovare una condizione fisica buona per esprimere il suo gioco. Adesso lo vedo meglio, vuol dire che piano piano potrà anche lui aiutare la squadra. Ovviamente non è che conto solo su alcuni giocatori e non su tutti. Il mio avviso è sempre lo stesso, i 25, 26 o 27 giocatori che abbiamo, dipende se incluiamo i portieri o no, sono tutti in grado di aiutare questa squadra a vincere le partite. Fugliese, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno mister. Buongiorno. Lei in passato ci ha detto che ci sono alcune coppie di giocatori che funzionano meglio, sono ben assortiti, Digne, Iago, Totti, Gervinio. Io mi voglio concentrare su un'altra coppia che è quella dei difensori centrali e allora le voglio chiedere, fermo lestando, mi sembra che Manolas sia il punto fermo, insomma il giocatore dominante. Come funziona e come cambia Manolas Castan, Manolas Rudiger o Manolas De Rossi? Qual è la coppia secondo lei che potrebbe funzionare meglio? Il tempo che ce lo dirà questa cosa. Costas con Daniele hanno funzionato benissimo le due partite che hanno giocato. A parte, ripeto, che fa due partite che facciamo errori individuali che ci costano tanto e su questo bisogna cancellare questi errori e essere più efficace, ovviamente. Se ci riferiamo a Roma-Barcelona, la coppia Manolas-Rudiger è stata di un livello veramente alto perché se no non ci riesce a fermare i tre fenomeni davanti. Contro il sassuolo era la stessa coppia ma con un rendimento molto più basso. Ma le spiegazioni le avete voi, tra uno che arriva tardi e che ci deve rimettere a livello può anche giocare benissimo la partita e essere un po' meno bene l'altra. Infatti è infortunato, non verrà convocato domani ma penso che tra poco tornerà e ci aiuterà ovviamente anche a far riposare alcuni giocatori in difesa come Costas che non può giocare tutte le partite. sulle O abbiamo solo giudicato la coppia con Manolas a Verona, non è stato né male né benissimo ma ancora una volta non è il problema della coppia, le coppie le potremo valutare quando ognuno di loro sarà al 100% l'unico che ha al 100% per il momento è Manolas, Daniele ci sta mostrando di poter giocare in questo ruolo e di poter farlo bene allora è una soluzione in più, è un bene per la squadra di avere almeno questa soluzione. Maida, Corriere dello Sport Buongiorno, Dzeko ha segnato soltanto un gol in questo inizio di stagione addirittura ci sono dei tifosi che cominciano a mugugnare vorrei sapere come si sente lui, come sta vivendo questa difficoltà anche nell'essere pericoloso e quali sono gli accorgimenti che state pensando per assisterlo meglio? Grazie Lo vedo tranquillo Edin non è un giovane giocatore, non è un giocatore esperto sa che per un centravanti bisogna solo continuare a fare a fare dal meglio suo e i gol torneranno, non è non è un problema dopo lavoriamo in ovviamente in in allenamento anche se è complicato quando giochiamo ogni tre giorni ma anche questa mattina abbiamo lavorato con lui, con gli attaccanti per dare ancora più automatismi a questa squadra perché deve, come già l'ho detto, imparare a giocare con Edin e Edin deve imparare ancora di più a giocare con i suoi compagni solo questo, ma non sono preoccupato per il momento segniamo dei gol sono più preoccupato sul fatto che basta prendere dei gol così si può vencere anche uno a zero per il momento abbiamo segnato sempre invece a parte a Frosinone, non mi ricordo una partita dei sei che abbiamo giocato dove non abbiamo preso gol e questo lo dobbiamo migliorare tanto con l'atteggiamento di squadra quello che è stato alla Sampdoria di non lasciare spazi all'atversario ai attaccanti-adversario e dopo sull'efficacia, sull'ultimo gesto anche finale in difesa come lo chiediamo ai atacanti lo chiediamo anche ai difensori il gesto giusto Parisi, Centrosuono Sport Buongiorno, mister Buongiorno Senta, Nainggolan a parte contro il Frosinone ha praticamente giocato sempre sia in Champions League che in campionato che anche con il Belgio ecco, le volevo chiedere come sta se ha bisogno di recupero e, cambiando argomento Florenzi, come sta che questa mattina ha svolto lavoro personalizzato? Grazie Flore ha preso una botta alla Sampdoria e l'abbiamo risparmiato oggi vediamo domattina perché faremo una seduta qua a Trigoria come sta vediamo se sta bene potrà giocare se non sta bene non lo rischierò ovviamente dopo che era l'altra domanda? su Raja ma Raja se non mi sbaglio non ha giocato dove l'ho fatto recuperare dopo a Frosinone ha giocato allora ha ripreso forza è più un giocatore che ha bisogno di giocare sempre per stare bene che un giocatore che che ha bisogno di fermarsi anche se avendo giocato due partite intere con il Belgio l'ho risparmiato a Frosinone così per lui sarà solo la terza partita non dico che inizierà ma può anche iniziare non è un problema l'unica cosa e lo sa lui che deve migliorare perché con il giocatore che è può fare può fare meglio ma lo dico tranquillamente perché perché lo sa adesso sembra che piano piano sta ritornando al 100% sul piano fisico e penso che Raja ha bisogno di essere al 100% per esprimere il suo gioco Rosso Mando del Radio Stereo Salve mister Salve Si è discusso tantissimo dei calci d'angolo dopo la partita Roma ha battuto 18 calci d'angolo eccetera eccetera per lei c'è stato più un problema di errore tecnico individuale proprio nella battuta del calcio d'angolo oppure è mancato qualcosa a livello tattico dei movimenti dentro l'area di rigore e poi le chiedo se c'è una gerarchia su chi deve battere i calci d'angolo che abbiamo visto Pianic Jacofalche Florenzi Eh sì perché con il capitano sono questi questi tre che hanno il migliore piede sulle punizioni sui calci d'angolo dopo ovviamente potevamo fare meglio penso che il primo anno abbiamo segnato tanto sui calci piazzati ma anche perché avevamo un giocatore come Benatia che faceva bene nell'era avversaria l'anno scorso abbiamo lavorato tanto e il lavoro si è visto solo alla fine quando abbiamo segnato dei gol importanti penso al gol di Yang Ambiwa per esempio e continuiamo questo anno dall'inizio della stagione a lavorare tanto su queste cose i giocatori devono fare variazioni come le prepariamo abbiamo dei schemi anche se il tiratore è lui che deve leggere la situazione e i saltatori devono ma sanno che devono fare e dobbiamo continuare finché abbiamo queste opportunità ovviamente che le dobbiamo sfruttare di più cerchiamo nuove cose cancelliamo le cose che non funzionano ovviamente stiamo stiamo lavorando è l'unica cosa di valutare la nostra forza sui calci piazzati sarà di segnare ovviamente per il momento siamo molto più basso sul rendimento che dovrebbe essere questo rendimento ma continueremo a lavorare con più esigenza sì facciamo l'ultima Sonnino Radio Radio salve mister salve io le volevo chiedere questo l'anno scorso quando le cose andavano così e così nella seconda metà ci si appellava molto alla classifica comunque la Roma è seconda siamo lì allora le chiedo intanto se la Roma secondo lei al momento è dove merita a livello di classifica visto che se quello è un parametro lo era l'anno scorso come lo è quest'anno e poi visto tutto quello che si è detto e se si è scritto se lei si sente in bilico grazie io la mia unica preoccupazione l'ho detto all'inizio della conferenza stampa è di preparare bene la gara di domani non c'è altra preoccupazione per me ripeto dobbiamo essere in grado di ripetere il modo in cui abbiamo giocato alla Sondoria ovviamente essendo più efficaci davanti nell'ultimo passaggio nella finalizzazione e ovviamente cancellando i piccoli errori che ci costano troppo è solo questo che dobbiamo migliorare per tornare alla vittoria e lo dobbiamo fare subito da domani è la classifica è la sesta giornata non è il problema il problema è che se perdi troppa strada dall'inizio può essere un problema domani abbiamo la possibilità perché giochiamo subito di rimbaltare questo momento con gli impunti bassi che abbiamo preso sulle due ultime partite e facciamo in modo di iniziare una striscia come l'avevamo iniziato contro la Juventus in casa grazie a voi grazie